Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questa domenica avremo un graduale miglioramento del tempo momentaneo in attesa di un'altra perturbazione atlantica che ad inizio settimana porterà tante piogge, qualche temporale e anche nevicate abbondanti in montagna. La situazione per questo weekend vede ancora qualche addensamento al centro Italia sulle isole maggiori in Puglia con delle debolissime precipitazioni, più stabile e soleggiato invece al nord. In Abruzzo un weekend con maggiori spazi di sereno, in particolar modo lungo le coste e le colline, mentre nelle aree più interne, ovvero in Apennino, ci aspettiamo un graduale aumento della nuvolosità, specie tra pomeriggio e sera. Tuttavia sarà nuvolosità che non darà luogo a precipitazioni. Dal punto di vista termico, leggero aumento delle temperature nei valori massimi, valori tra gli 8 e gli 11 gradi, minime in calo, valori tra 0 e 7 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona giornata. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito.